Scandalo Sarabanda, gioco truccato, dopo l'ultima puntata si scatena una bufera su Sarabanda, l'ex concorrente Francesco Marrazzo, affermando non sono io a decidere le battute, ha lasciato intendere che nel programma di Enrico Papi ci sia un copione ben stabilito, prima parte, il game show sotto attacco, nonostante nelle due puntate finora andate in onda abbia registrato Ottimi ascolti, Sarabanda 2017 è subito finito nel mirino della critica, in particolare, è stata la puntata del 20 giugno 2017 ad estare un certo malumore tra i fan, nel secondo appuntamento, infatti, è entrato in studio Tiramisu, leggendario e mai dimenticato campione del programma che sconfisse l'uomo gatto, qui, il campione ha dovuto affrontare varie sfide prima di giungere al gioco finale, 7 per 30, dove ha affrontato la promettente recluta Fabrizio Dettozzinizi, clamorosamente, a trionfare è stato proprio quest'ultimo che è nettamente prevalso su Tiramisu, il fatto, tuttavia, ha scatenato l'ira dei telespettatori che hanno notato molte incongruenze nelle domande nei secondi, mirati, secondo il loro giudizio, a favorire lo sfidante, seconda parte, è tutto truccato, alla clamorosa sconfitta del campione, il web è insorto contro Sarabanda, molti utenti social hanno dichiarato che i secondi che scorrevano erano molto più veloci quando doveva indovinare Tiramisu, mentre quando doveva rispondere Zizi, il tempo sembrava rallentare, ma non solo, a finire sotto accusa è stata anche la scelta delle canzoni da attribuire ai due finalisti, per molti, Tiramisu ha avuto canzoni molto più difficili sin dall'inizio rispetto allo sfidante, motivo per cui si sarebbe ritrovato velocemente con pochi secondi, frasi come è tutto truccato, anche i secondi o non hanno avuto rispetto per Tiramisu o, ancora, i secondi partivano prima a Tiramisu e hanno alzato un vero e proprio polverone contro Enrico Papi e la trasmissione, cosa succederà, per scoprirlo non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti sul programma e se interverrà in prima persona Enrico Papi.